Madonna mia ragazzi, hanno appena dato lo start, siamo tutti fermi, chiodati, meno male che il vino ghiacciato ci tiene in forma, una fiacca oceanica sta avvolgendo l'eclizia, guardate quante barche, Marusà, saluti noi, saluti noi. Ma Marusà che non si è vento, anche i maxi sono tutti fermi, io non so se voi vedete quello che vedo io, ma stiamo parlando di uno scenario bellissimo, quasi apocalittico, senza vento prevale il vino bianco, guardate che roba, e qua a bordo si mangia panini con la pozzina, Mauro io provo a dare propulsione, vino bianco, una kenta rosè per festeggiare, fai vedere bene, questo a kenta, aspetta che ho fatto, Federico guarda, ah, ah, bello sudare, ah, melanzane in parate fritte, aspetta che prendo, la sua fine gloriosa si avvicina, Giulio, Giulio, Il sorriso del benessere, guarda, 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 Malusà, bellissimo, ragazzi guardate che spettacolo, siamo un po' contro luce, ma lo scenario è veramente meraviglioso, Io vi saluto e vi lascio a più tardi